Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Sicuramente per tutti è un gioco che fa un pochino il verso a quello che abbiamo già visto con Mudrunner o Snowrunner ma con un'ottica un po' diversa perché dietro ci sta l'organizzazione diciamo che sponsorizza il gioco dei campionati di camion dove si vanno a superare i vari ostacoli ambientali e così via. Il gioco ci dà già una marea, non so se è la mia versione di gioco che magari per consentire di vedere più cose, però insomma ci consente di prendere un camion, di acquistarne uno insomma, di potenziarlo, quindi di andare a rinforzare le varie cose o di far salire di livello. Però questo per farlo non ci chiede, vabbè, il potenziamento ci chiede soldi, il rinforzo scusate, mentre invece tutto quello che è il potenziamento dovrebbe andare in base all'esperienza che noi accumuliamo con quel mezzo, io adesso ho simpatia per l'Unimog, prendiamo quello. Abbiamo la possibilità di andare a cambiare il tipo di campionato che andiamo a fare, campionato o evento. Il tutorial ci fa guidare attraverso alcuni ostacoli, insegnandoci le basi della guida su fuoristrada. Dopodiché abbiamo i cinque cancelli, quindi possiamo guidare liberamente in un'area privata, insomma, andando a scoprire tutti i cancelli. Abbiamo la possibilità di trovare le gemme nascoste, quindi abbiamo un torneo di trial con camion con varie zone da esplorare e da superare agilmente senza rompere il camion, perché poi c'è il sistema di danni di riparazione. Abbiamo l'Europa Track Trial con le sfide, questa è una competizione leggendaria e famosa, e poi il campionato Heavy Duty con percorsi hardcore. Abbiamo qua sotto poi ci vengono mostrati le varie location dei vari campionati. In questo caso possiamo andare a Valet Blue e iniziamo, perché adesso il camion non credo sia danneggiato, quindi andiamo avanti. Allora, ve lo faccio vedere. Questo gioco è un grosso ma, perché secondo me poteva fare molto molto di più. Poi c'è a chi piace e magari a qualcuno di voi potrà piacere. Ve lo faccio vedere, vi faccio vedere un po' il sistema di guida, si possono alternare le varie visuali dall'interno all'esterno, molto carina quello all'interno. Abbiamo la possibilità di andare a cambiare marcia, andare a cambiare il tipo di trazione. Ah, scusate, ho premuto Team Camp accidentalmente. E torniamo qua. E questo è il campo dove abbiamo la possibilità di riparare il camion. E qua vediamo anche l'esperienza che abbiamo accumulato. Comunque qui ci permette di andare a vedere lo status del nostro camion, a ripararlo spendendo crediti e poi andare finalmente a guidare, cosa che facciamo subito. Guida. Vedete, questa è la visuale interna che è molto carina. C'è anche questa filigrana un pochino davanti, tipo casco. Comunque, il gioco lagga un pochino, ma lagga soltanto perché sto registrando, ecco. Allora, abbiamo, vedete, la possibilità di, adesso dovrei accendere il motore. Vedete che lo accendo, era già acceso in realtà. Possiamo andare a cambiare la marcia con maiuscolo e control, quindi andare a metterla prima, la retro, così. Abbiamo il CVBN, che ci va a mettere il differenziale da strada, integrale, assi posteriori bloccati o tutti gli assi bloccati. Quindi abbiamo queste. E con i tasti 1, 2, 3, 4 andiamo a vedere dall'esterno, che di per sé è molto carino a livello grafico. Metto la prima e inizio ad andare. C'è una minima deformazione del terreno che non è così accentuata come già visto in altri giochi. Spesso, guardandolo da questa visuale qui, non si capisce che cosa stiamo effettivamente facendo. Quindi dobbiamo usare la visuale esterna per superare le varie zone. Vedete che qua ci sono delle zone parecchio difficoltose. Bisogna avere pazienza, secondo me rende bene anche con magari un volante. Però questo è prevalentemente un gioco adatto a chi ha amato lo metà alla retro. Amato, giochi come Snow e Mudrunner. Torniamo su. È perché c'è il terrenco lì che ci dà fastidio. Ovviamente se poi lo vediamo così non sappiamo cosa stiamo facendo. Insomma, quindi però giustamente il vero realismo è qui. Vado a inserire la trazione integrale. Torno in visuale così, così vedo cosa sto facendo e vedo che devo andare di là. Ma la cosa bella è che se andiamo di là e non seguendo questo percorso potremo incastrarci e quindi dover recuperare il mezzo. E facendo le varie cose noi andiamo anche a danneggiare il... Vedete che qua abbiamo degli ampissimi problemi. Quindi metto la retro e provo a recuperare il terreno. Ok, guardate la gomma. Le gomme dovrebbero essere anche abbastanza sgonfie per fare tutte queste cose, però lì mi sembra veramente di girare quasi sul cerchio. Comunque, ce la stiamo facendo. Ecco, e la cosa interessante è che ci torniamo di fronte a queste cose. Queste cose veramente sono tostissime da superare ed è il grado di sfida che offre questo gioco. Adesso ci proviamo, insomma, però. Siamo in integrale. Vediamo se riusciamo a superare. Eh, no. Eh, l'ho sbagliata del tutto questa. Dovevo essere più preciso. Ecco, passare qua. Forse da qui ce l'ha... Ah, ho premuto... Ok, no, niente. Accidentalmente ho premuto il tasto R. Non so il motivo, probabilmente ce l'ho abituato a un My Summer Car a recuperare il... A cambiare marcia, scusate. Con quello, vabbè. Ci torniamo subito. Proviamo, perlomeno, a tornare lì. Ovviamente questa è una delle sfide. Dovrebbero esserci anche le classifiche online, per vedere. Però ci stiamo andando anche abbastanza bene questa volta. Allora, dovrei... Per passare di là... Secondo me dovrei passare di qua. Perché lì è più vicino. Dovrei mettere la vuota lì. Eh, mi rimango schiacciato sotto, però. Mannaggia me. Mi sono anche incastrato. Ok. Perché non va? Ok. Non sto danneggiando il mezzo al momento, quindi vado abbastanza tranquillo. Ok. Proviamo a passare dall'altra. Magari mettiamo il differenziale bloccato, posteriore bloccato, in modo che ci dia più spinta. Però ecco, è un gioco di estrema nicchia, secondo me. Purtroppo sta soffrendo un po' delle recensioni in Steam, che sono abbastanza altalenanti. Perché comunque, come dicevo, si poteva fare comunque di più, a mio parere. Voglio lasciarlo sfilare. Questa ce la facciamo di qua, però, andando così. Perché c'è un lag nella partenza, nel senso che il camion non va. Ah, perché sono un bambu, avevo il freno a mano tirato. Ok. Ok, sono stupido io. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Fantastico, perché con lo spazio si attiva il freno a mano. Ovviamente da qua è molto più difficile capire. Poi non si può scendere dal mezzo, quindi... Però, vabbè. Adesso. Adesso bisogna capire cosa bisogna fare. Bisogna andare di qua. Allora, proviamo un attimo. Andiamo. Passiamo di qua. E qua dovremmo verlo... No, non l'abbiamo danneggiato. Ok, stiamo continuando il percorso. Bisogna passare dove c'è il verde. Quindi credo che vada bene qui. Poi si va avanti, posso rimettere... Ok, abbiamo completato. Sezione 1 di 3. Nuovo punteggio. Migliore in categoria. Due assi. Punti questi. Tempo questo. E continuo. E così si va qui. Non abbiamo danneggiato il camion. E quindi si può andare a fare la sezione 2. La sezione 2. Posizione sedile. Possiamo andare addirittura a regolare dall'interno della macchina il sedile. Adesso non me lo fa vedere perché ho la visuale... Avevo la visuale esterna quindi non me lo fa regolare. E... Praticamente qua si va... No, questa è la sezione 1 che l'abbiamo già fatta però. Torno al menu principale. Vediamo un attimo. Allora, indietro. Non mi dovrebbe dare nient'altro perché nell'impostazione abbiamo varie cose. Si può andare a vedere a livello grafico. A livello di gioco. Sistemi di unità di misura. Non c'è anche come regolazione. Ci sono i progressi di gioco, i comandi. C'è la possibilità poi di aumentare, accendere e spegnere con la F il motore, modalità strada, le visuali. E basta. Quindi mi sarebbe aspettato magari qualche parametro in più ma è anche un sistema di classifiche fatto un po' meglio in realtà. Vi faccio vedere giusto per amor di cronaca anche un altro... un altro camion. Vediamo. Abbiamo provato quello. E vi faccio vedere uno grosso. Questo. Questo qua non... Questo qua è bello grosso. Vediamo. Però ecco, non vale la pena adesso star qui a farveli vedere tutti. Però insomma... Se posso dirvi 29,99 per un gioco così ne vale la pena se siete appassionati perché comunque dà una sfida, non mette troppa pressione. Ok, c'è il tempo da fare, però meno male iniziate a studiare il percorso, vi dà soddisfazione quando lo superate, è meno punitivo rispetto a uno snow runner che iniziate veramente a imprecare dopo pochi minuti. Però ecco, gli interni sono fatti bene, quello da dire. Allora, accendiamo il motore che era già acceso. Va bene. Lo accendo. Esc, chiudo il messaggio. Primo il 4. Vedete che il camion è un pochino più grande di questo rispetto all'altro. Anche l'interno è molto meno spartano. Mette la prima. Inizio ad andare. Non so dove. Di là. Perché c'è il verde di là, quindi andiamo di là. Ma onestamente io non so dove devo andare. Adesso, scusate, ma devo capire probabilmente di qua. Vediamo se si rompe. No, metto la retta. Partendo a premere R, perché... No. Precisamente no. Aspettate, metto la retta di nuovo. Metto la retta. E non vai in retta, perché ci siamo incastrati da qualche parte. Mannaggia me. Ok, torna qui. Mettiamo la prima e vediamo. Tolgo il freno a mano perché ci fa parte del freno a mano. Possiamo mettere giù il cartello che fa solo fastidio. Ah, ok. Sì. E ci dà anche una mappa del percorso che dobbiamo fare. Si sta danneggiando il gruppo propulsore, non so il motivo. Però possiamo... Ah, la strada va di là. Ok. Però vedete che visto dall'interno è... Poi ci sono una marea di appassionati di questo genere qui. Sia chi lo pratica, chi lo segue. Sono tutte marce praticamente ridottissime queste. Devo cambiare il tipo di trazione integrale perché questo qui ha tre assi. Quindi è già un po' più tosto. Poi vanno pienissimo comunque. Dovrebbe esserci anche la possibilità di mettere... No. La velocità fissa no. Bisogna continuare a... Ok. Come dico sempre... Allora, gli specchietti sono fatti bene. Il gioco, come dico sempre, può piacere o meno. È per una cerchia ristrettissima di appassionati. Sicuramente avessero messo... Non saprei neanche direvi cose in realtà. Un sistema di danno è un po' più bello. Magari la possibilità di mettere mano come si faceva anche in un altro gioco che ho portato tempo fa. Mano al veicolo per ripararlo. Sarebbe stato più più intrigante, più bello. E magari... Un'altra dolente una deformazione del terreno migliore. Graficamente si vede che è fatto bene ed è anche abbastanza pesantino però. quindi... Poi in parte il camion e così sono fatti benissimo. Però diciamo che viene fatto a pezzi da SnowRunner che SnowRunner però è un gioco diverso perché non è basato sulla competizione come in questo caso la competizione è migliorare il tempo. Vedete che abbiamo il tempo, abbiamo i cancelli superati sulla sinistra, i punti accumulati e quindi in questo caso adesso sappiamo che stiamo arrivando qui e dobbiamo bloccare magari il differenziale con gli assi posteriori bloccati. Vedete che facciamo questo. Adesso stiamo... Non abbiamo più danneggiato nulla però vedete stiamo andando avanti stiamo arrivando in nuovi luoghi e poi potranno sicuramente raggiungere altre location in futuro però dal mio punto di vista la mancata di formazione del terreno è una cosa piuttosto deludente. Poi io cerco sempre di trovare i punti positivi del gioco però se spenderei 29,99 no! Voi magari li potreste spendere se il gioco vi piace perché comunque non è il classico indie di origine indefinita disagio totale e cose varie è un gioco che dietro c'è Nacon quindi non Nacon scusate Airsoft e Airsoft ha fatto una marea di giochi simulativi ha distribuito una marea di giochi simulativi quindi magari potrà anche migliorare ma di base il gioco resta questo probabilmente non dovevo andare di qua però vedete che va avanti proprio pianissimo adesso metto la terza va piano piano 9 all'ora adesso sarà magari non conosco poi queste competizioni quindi non conosco i camion conosco forse l'unimog come camion e basta quindi camion semi militari quindi hanno una gran forza di spinta e poi è un insieme di sponsorizzazioni messe qui sul cassone quindi questo è il man ma poi vabbè non c'è neanche il guidatore all'interno ma quello vabbè eccola lì un'altra porta però ecco io non voglio tediarvi perché comunque da vedere immagino non sia proprio sto gran che cavoli non si vedeva la staccionata da qua poi bello anche la fisica ok quello di come si muovono i doveva andare di là mi sa perché comunque lo definiscono un open world dato che potete vagare liberamente per la mappa andando a trovare i collezionabili andando a trovare le porte sotto cui passare quello può essere carino e rilassante perché trovate il percorso cercate di capire un po' death stranding se vogliamo ci passiamo interi sì al pelo sì ma ci passiamo però magari può essere frustrante quando iniziate a bloccarvi avete capito che state prendendo praticamente la strada al contrario e non riuscite poi a passare sotto la porta che dovete prendere quindi ecco questo è un po' il sunto del gioco non voglio non voglio andare per le lunghe con questo titolo ovviamente sono curioso di sapere sotto nei commenti se qualcuno di voi lo ha preso se gli piace il genere se vi sono perso qualcosa nel senso che magari dovevo mostrare qualcos'altro o più semplicemente se invece avete visto il gioco e volete dirmi che cosa ne pensate insomma resto comunque disponibile e curioso fatemi sapere ragazzi qua sotto nei commenti alla prossima vi saluto e ciao 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 ciao